Questa è un'operazione importante per i nostri associati perché gli permette di pagare, far fuori il pregresso che è stato sospeso e riuscire a cominciare a parlare di magazzini e organizzarsi per quanto riguarda l'attività lavorativa. Il commercio ma anche le piccole imprese artigianali stanno pagando un prezzo molto alto a causa della pandemia. Il crollo delle vendite, la contrazione del fatturato in molti casi hanno creato difficoltà anche di tipo finanziario. Insomma adesso servono soldi per ripartire e una boccata d'ossigeno arriva dall'accordo tra confidi del sistema commercio regionale, i comuni e le banche. Anche l'amministrazione bassanese ha aderito con uno stanziamento di 100.000 euro. 100.000 euro che andranno a sviluppare nel territorio 1.200.000 euro di piccoli finanziamenti a tasso agevolato proprio per favorire la ripresa delle piccole imprese e dell'attività del turismo e della somministrazione alimenti e bravanti. Finanziamenti che avranno un minimo di 10.000 euro e un massimo di 20-25.000 euro, mediamente sono sui 15-20.000 euro, per cui possiamo ipotizzare che 70-80 imprese, minuscole imprese del nostro territorio, potranno ottenere questo finanziamento. È un finanziamento a delle condizioni agevolatissime, c'è solo il costo dell'interesse dello 0,70% in quanto tutto quanto il resto è pagato con il contributo del Comune.